Con Antonio Mungiello commentiamo questo 3-0, un derby sulla carta facile, però alla fine si fatica sempre. Una squadra con tanti ragazzi di esperienza, veterani della pallavolo catanese. Noi venivamo da una serie di partite negative, due sconfitte, Terrasini e Colmodi che è in casa. Vi entro da una squalifica molto ingiusta. Il mio approccio alla gara è stato molto positivo, molto utile soprattutto per la vittoria di questa partita. Ci siamo allenati molto bene durante la settimana, con grande attenzione e soprattutto concentrazione, quella che abbiamo chiesto ai ragazzi prima di iniziare l'iscaldamento. Si acquisiscono punti importanti sulle dirette inseguitrici? Sì, ma punti importanti, tre punti fondamentali. Anche perché ora andiamo a incontrare Leon Forte e Mister Bianco. Sono tra i primi tre posti. Mister Bianco è la capolista, Leon Forte al terzo o secondo posto, non ricordo. Quindi due partite molto impegnative. Speriamo bene che riusciamo a fare almeno qualche punto in entrambe le partite per cercare di andare avanti e smuovere la classifica.